ecco la traduzione del testo in italiano manchester city arsenal calafiori segna il suo primo gol in premier league calafiori festeggia il suo primo gol in premier league nel weekend si è svolto il tanto atteso duello tra manchester city e arsenal in questo scontrolivello il nuovo acquisto italiano dell'arsenal calafiori ha segnato il suo primo gol in premier league il giovane giocatore che è passato al club durante l'estate ha sorpreso non solo i tifosi ma anche i compagni di squadra con la sua prestazione impressionante la partita è iniziata con una forte prestazione del manchester city che ha creato diverse occasioni nella fase iniziale i giocatori della squadra di casa hanno spinto l'arsenal in difesa tuttavia gli ospiti di londra sono rimasti pazienti e hanno atteso la loro occasione in primo tempo i gunners non sono riusciti a creare molte occasioni da gol ma questo è cambiato nella seconda metà della partita calafiori ha segnato poco dopo il fischio d'inizio del secondo tempo dando una svolta alla partita ha approfittato di un'inattenzione della difesa del city realizzando un bel gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi dell'arsenal molti sugli spalti hanno parlato di un momento magico quando il giocatore ha fatto tremare la rete allenatore e compagni di squadra hanno elogiato la sua impressionante prestazione sottolineando quanto sia importante che anche i giocatori più giovani assumano responsabilità nei momenti decisivi nella riflessione post partita gli analisti hanno evidenziato come arsenal abbia potuto guadagnare molta fiducia grazie a questa prestazione il gol di calare di halafiori non è stato solo un grande successo personale lui ma anche un segnale per tutta la squadra che possono tenere il passo con le migliori squadre della premier league la partita si è conclusa infine in pareggio tuttavia è stato un momento decisivo per lo sviluppo della squadra i tifosi di entrambi i lati si sono espressi dopo la partita con opinioni divergenti sulla prestazione dell'arbitro che a loro avviso ha preso alcune decisioni discutibili tuttavia tutti erano d'accordo sul fatto che il gol di calafiori fosse uno dei momenti salienti della giornata in futuro si potrà essere curiosi di vedere come si svilupperà la carriera del giovane giocatore nella premier league specialmente in una competizione così impegnativa come arsenal contro city in generale si può affermare che l'incontro tra arsenal e manchester city non ha offerto solo tensione ma anche emozioni al culmine della stagione tifosi ed esperti concordano sul fatto che possiamo aspettarci ancora molto in termini di prestazioni da calafiori autore anita fache lunedì 23 settembre 2024